Ciao a tutti chiciotti e benvenuti in questo vice bisogno di Xtreme Art Farm e Survival Non voglio che pensiate chissà cosa Sto registrando un bordello di video Ho cambiato vestiti perchè altrimenti mi vedete per una settimana intera con la stessa maglietta Apprezzerei un mi piace Completamente a caso Allora ci sono qua 5 uova che non mi hanno dato niente Quindi vabbè sto qua cuocendo un bordello di ferro Che mi dovrebbe portare ad avere una buona quantità di materiale per cercare di creare il golem Cosa mi manca? Mi manca la testa E la testa è costituita dalla roba che usiamo per fare la pumpkin pie Cioè la zucca Problema Dove la prendo io la zucca? Non si sa Ho anche portato a casa i due diamanti dello scorso episodio Però 4 diamanti non fanno un elmetto Ce ne servono 5 Meh Dovrò andare a cercarli Qualche parte le trovo sicuro Però Sti mellon seeds mi hanno deluso troppo Pensavo fossero semi di zucca Lo so che non sono neri i semi di zucca Però Per un attimo ci ho creduto Allora abbiamo qui 3 blocchi di ferro Che io metterò in questa Posizione Me ne manca uno E metterò il quarto E poi non ci manca nient'altro che la zucca Quindi la missione Attuale non è completare gli achievement Non è devastare i dungeon No Trovare sta cazzo di zucca Nel momento in cui la tua serie si basa su una zucca Che bello Bellissimo Sensazione bellissima E lo metto qua dentro Perché come per il cavallo Eh L'iron golem potrebbe andarsene via E dato che è una cosa degli achievement Preferirei Se non ce ne andasse Affanculo Preferirei fosse lì tangibile Venti caso che gente nuova che si scrive Viene Viene a vedere la serie Dice boia ma Tutti si è preso l'achievement dell'iron golem Ma non l'ha mai fatto Almeno lo vedrà Che è tutto bellino Quindi Dobbiamo aggiornarci un po' Dobbiamo vedere dove andare A cercare i prossimi dungeon Sto pensando E qua sotto ce ne sono stati abbastanza di dungeon Abbiamo trovati due Quello impossibile Cioè quello hardcore E quella di creeper Che era tipo qua vicino Mi sa che i prossimi dungeon Devono essere Da quest'altra parte C'era quello dello scheletro Che abbiamo esplorato nei primi episodi E ok Ora però ci manca Buongiorno Ci manca ancora Un bel po' di roba A dire il vero Io scenderei Anche Lì Oh Ah Vabbè Neanche tanto male Pensavo facesse più danni Ok Ehm Sto pensando Dove 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 metterei io Se fossi Un dungeon master Il prossimo dungeon Dove lo metterei Da quest'altra parte Ho i miei dubbi Ho i miei dubbi Probabilmente lo metterei qua sotto Però Io non sono il dungeon master Chiamo dungeon master Perché fa figo Quindi probabilmente Ciò che penso io Non è ciò che ha pensato Creatore di questa mappa Altrimenti L'avrei già finita Probabilmente Però di sicuro Può aiutare O Cos'è una caverna? Ehm Si scende Ok Andiamo a controllare di qua Voglio essere sicuro Di prendere più roba possibile E di trovare cose giuste C'è la bedrock Sono piuttosto un video Che da sotto non ci sia niente Essendo un creeper a bestia Boia Proviamo Completamente vuoto Che bello Bellissimo Bellissimo Spero che non cada nessuno Può vedere qua Bello che Bisogna usare tipo Un fonometro Fonometro Sebbe tipo No Fono Si fonometro E' tipo lo strumento che misura Quanto audio c'è Perché devo capire assolutamente Boia quanto ferro Mi piace il ferro Dammi il ferro Da dove arrivano i rumori Perché io andando in una certa direzione Ovviamente Faccio in modo che spawnino I zombie Oppure i creeper O quel che è I mosti di quel dungeon Quindi se vado a su Ecco Ad esempio Merda Pensavo di aver fatto una scoperta fighissima E invece Si si signori Ora arrivo da voi Madonna Ora vi massacro tutti Con calma Uno alla volta Dimmi te Devo fare anche la fila Per farsi uccidere Davvero Qualcun altro? Poi c'è un po' di gente qua Che zona sono? E' la zona da cui si esce Buongiorno signor creeper Potete anche esplodere Potete anche esplodere Fonte sega? Scherzavo Scherzavo Non prendere tutte le parole La lettera Madonna Ma mori Oh Ok Sono convinto che ci sia qualcosa qua sotto Spero Quanti dungeon ci sono stati in sta mappa? Tre? In sta zona Perché io ho come l'impressione che Ma ci siano delle zone con più Popolazione Con più Frequenza di Di dungeon Altrimenti avrei già trovate Gli altri Oh Sento cose Le sentite anche voi Ho sentito delle fiamme E le fiamme vuole dire solo una cosa O c'è un altro spawner O c'è un altro spawner di Di pigmen Se mi lascio finire la frase O non lo so Ok lo sento Sono blaze Non vorrei forse il dungeon speciale Potremmo Si sento pigmen Blade è il dungeon speciale dell'altra volta Vero Probabilmente si Esattamente Ah Però mi ha fatto in un'idea questa cosa Io qui devo ancora prendere I miei carissimi diamanti Mi ne manca ancora un diamante E quel diamante Mi servirà per fare l'achievement dell'armatura Quindi in realtà è molto utile E' molto utile E' molto utile Senti andiamo su con un pillar Perché essenzialmente Fotte sega Ok Ok si è proprio di qua Allora Ah è vero C'era anche questo Ci sono stati tantissimi dungeon in questa zona Che ci penso Forse troppi Potremmo averla saturata Potremmo aver fatto Tutto ciò che c'era da fare Potrebbe essere Potrebbe essere Allora andiamo Boia recupera vita C'è solo quattro cuoio Non me ne ero accorto Ti immagini andavo nel dungeon così Morivo come un deficiente Morivo Qua ci sono già stato Devo andare per di là Non mi ricordo male di strade Cazzo sono arrivato io Ah per di qua Di qua Ecco infatti Perché c'è una pecora nel land madonna Ok Allora Dov'erono i diamanti Vediamo una controllatina Non ne vedo Di là Di là Se permetti Permesso Grazie Lo apprezzo eh Devo prendere solo un diamantino Nulla Tranquilla Tra l'allero Tra l'allero Tra l'allero Tra l'allero Tra l'allero Tra l'allero Eeeh Ma che cazzo metti la stringa Allora Dov'era? Qua sotto? O sopra? Eccolo qua Perfetto L'ultimo diamante della collezione Ma la fanculo a tutti Veloce prima che mi spari Ti ho visto Boia Quanti cazzo sono però Dai su Dai Qualcun altro Ma Ti rendi solo ridicolo Signor ragno Eh Bello Mamma mia Perfetto C'è qua un uovo che avanza E ovviamente Dobbiamo spaccare In onore del golem Perfetto Ho uscito un kais Qua c'è altro Ferro Che mettiamo qui da parte Allora diamante Vai così Achievement Completato Facchia Facchia Ma c'era qualcosa Ah merda Se lo sbaglio Era il blocco d'oro Che me ne faccio Il blocco d'oro Tutto eccitato Per l'achievement E sono abbastanza Sicuro che mi tocchi Stavo guardando se ho medaglie Da prendere Allora dov'è quello Verde Vediamo Achievement Si infatti Ma Vaffanculo Blocco of gold Ma manco mi servisse a qualcosa Dare un gol e ora lo finisco E poi ho finito il primo Figata 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 Vediamo Questi sono il rank 2 Vediamo cosa sono Nether fortress safe and loot it Ok bisogna andare nel nether quentin Splash potion of regeneration 2 Gunpowder farm Renewable coin source Eh come si fa Gunpowder farm Una farm di gunpowder si può fare Con i creeper Però non so cosa mi possa servire Completa la La stanza delle medaglie Vai in cima Al cubo C'è una mappa sopra di noi C'è una zona di mappa sopra di noi Che kaiser l'aveva vista E' quella come kaiser si raggiunge Magari andando da lì Quello è vetro magari Quello in alto è vetro E si può rompere Ok Ok E basta E' finito Ah no ok Queste sono le cose finale Metti l'uovo Ah C'è anche l'uovo di drago Quindi E poi opzionale La forbina ant farm Che è l'ultima ant farm Che probabilmente è la più difficile Perché è l'ultima della serie Ok mi sa che questo blocco d'oro Lo utilizzerò per i coin Comunque per questo episodio è tutto E' stato un episodio profigo Perché abbiamo finalmente completato un altro achievement E ora mi manca solo quella zucca madame E vi saluto e vi ringrazio tantissima bella visione Ciao turuturututti